ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi farò conoscere un altro tester un multimetro che serve sia per misurare la corrente continua che la corrente alternata è della velab questo è il modello vm 600a e già di questo marchio ho fatto conoscere altri prodotti l'ho già testato ho fatto alcune prove per alcuni giorni mi sono assicurato che funzionasse bene ho guardato anche su amazon a più di 300 recensioni tutte positive perché vi faccio conoscere solo i prodotti che funzionano bene me ne hanno proposti tanti altri me li hanno inviati ho fatto delle prove non vanno bene quelli non ve li farò vedere mai faremo alcune prove alcuni esempi tanto per farvi capire il funzionamento e vi ricordo che vi lascio il link giù nel primo commento è nella descrizione attualmente mentre sto registrando il video prezzo è 30 o 31 euro già mi è sfuggito comunque super giù 30 euro con il codice di sconto sicuramente risparmierete qualcosa ma ricordatevi che per ora su amazon c'è pure la possibilità di applicare lo sconto cliccando sull'apposita casellina e si tratta del 15 per cento di sconto quindi mettiamolo adesso sul bancone e facciamo queste prove iniziamo questa è quindi la scatola con cui viene venduto nella quale troviamo la raffigurazione del prodotto è il modello scritto il prodotto all'interno della confezione viene venduto corredato anche di quattro batterie di tipo doppia quindi le batterie stilo un manuale di istruzioni scritto anche in italiano poi troviamo una sondina per la misurazione della temperatura due tappini che vanno messe sui puntali e due fusibili da potrei sostituire guardiamo quindi il prodotto da vicino abbiamo come sempre le varie porte per poter fare il collegamento sia della porta pom che del puntale di colore rosso che va spostato in base al tipo di misurazione che dovremmo fare allora abbiamo tantissime misurazioni tantissime funzioni che in realtà in ambito hobbistico forse sono troppe quindi guardiamo quelle base allora accendiamolo si accenderà il display compaiono tantissime icone e ci dà già la possibilità di fare le prime misurazioni noi adesso faremo delle misurazioni per quella batteria per provare solamente la misurazione corrente continua una cosa molto rapida d'altra parte la misurazione corrente continua si utilizza nel 99 per cento dei casi proprio per verificare che il livello di carica della batteria sia corretto ci sono tantissimi altri utilizzi per verificare che un alimentatore funzioni correttamente eccetera ma ci limiteremo solo a questo vedremo qualcosa pure con la corrente alternata pure perché voglio farvi vedere questo piccolo quadretto che ho realizzato in modo da poter sfruttare le varie funzioni guardiamo però i tastini come vedete se lo mettiamo in misurazione della tensione quindi con i volt possiamo variare da corrente continua che viene contraddistinta dalla scritta dc oppure possiamo andare in corrente alternata contraddistinta dalla scritta ac poi abbiamo la possibilità di misurare la continuità eccetera years insomma addirittura abbiamo la possibilità di fare la misurazione no contact voltage che ci permette di vedere quale cavo e sotto tensione semplicemente avvicinando questo sensore ai vari cavi e questa invece l'ultima funzione che ci permette di misurare la temperatura anche dei liquidi tramite quella sondina che va messa a posto dei normali puntali quindi ci permette di misurare sia col contatto di una superficie tenendola anche fra le mani immergendo un liquido e tanto altro quest'altro tasto invece con scritto range ci serve per cambiare i decimali quindi ogni volta che lo cambieremo come vedete avremo la possibilità di spostare la virgola e in ambito bistico anche questo secondo me arrotondato è più che sufficiente questo invece serve per poter accendere la retroilluminazione con una singola pressione oppure accendere sia il led nella parte frontale che la retroilluminazione mantenendolo premuto a lungo in questo modo avremo la possibilità con questa luminosità che effettivamente rispetto a tanti altri è abbondante di vedere nel caso in cui manchi la luce dobbiamo andare a fare un intervento o nel caso in cui ci troviamo in una zona poco illuminata per esempio un vano motore per la misurazione della tensione la batteria e tanto altro di illuminare e poter lavorare con la luce puntata poi per quanto riguarda lo stesso dispositivo abbiamo questa parte blu che è una gomma molto resistente che in realtà è una cover e che ci permette quindi di proteggere il nostro strumento ma che è possibile eventualmente anche rimuovere nella parte posteriore abbiamo questa parte che si apre ci dà accesso al vano batterie e che ci permette comunque di posizionarlo in questo modo per poter vedere bene il display e lavorare con le mani libere avendo il dispositivo rivolto verso di noi ma c'è un'altra particolarità che non avevo visto in nessun altro ultimetro cioè oltre al gancetto per poterla appendere è all'alloggiamento per i puntali che vanno messi qua nella parte posteriore una volta al riposto per evitare di perderle averli in giro per esempio nella cassetta degli attrezzi abbiamo la possibilità di utilizzare questa parte che magnetica facciamo la prova con la solita chiave inglese che utilizzo quando faccio le prove tutto ciò che ha dei magneti e guardate quanto sia resistente quindi si rimane attaccato molto molto resistente e guardate quanto siano forti quindi per esempio prendo l'anta metallica di uno sportello dove abbiamo qualcosa che dobbiamo testare possiamo posizionarlo di fronte a noi continuare a guardare il display avendo comunque le mani libere e la cosa bella di questo multimetro è che non ci richiede di impostare un fondo scala quindi se vogliamo misurare i volt basta semplicemente scegliere la funzione specifica in questo caso con la corrente alternata dovrebbe impostare la funzione corrente alternata e posizionando e puntali ci darà direttamente il voltaggio che dovrebbe essere circa 230 volte quindi facciamo questa misurazione collega l'alimentazione elettrica di questo quadretto che ho realizzato appositamente per fare queste misurazioni quindi tutto quello che vedete di anomalo in questo quadro è fatto appositamente per poter sfruttare i multimetri e le varie funzioni collegando l'alimentazione elettrica si accenderà il primo led che mi conferma che sono collegato alla rete elettrica alzando questo interruttore si accenderà il secondo led allora facciamo una prova vediamo direttamente i volt quindi facciamo la prova direttamente allora alzo pure questo se accende anche l'altro led facciamo la prova vediamo se mi misura 230 volt e abbiamo 227 228 volte quindi ci siamo va benissimo questa è la misurazione non è mai precisa ma perché non sono mai precisi volte possono variare fra 225 231 eccetera quindi per questa misurazione va benissimo facciamo la prova con gli hertz dovrebbero essere 50 hertz quindi mettiamo i puntali in questo modo e abbiamo 50 hertz esatti quindi per quanto riguarda la misurazione anche per gli hertz ci siamo ma abbiamo tante altre possibilità di utilizzo allora impostando quindi la funzione specifica abbiamo la possibilità di verificare che ci sia continuità per esempio su un cavo che sappiamo dove inizia non sappiamo alla fine dove c'è la scatola quale sia il cavo collegato e allora abbiamo la possibilità facendo contatto di sentire un suono oltre al suono avremo anche un led che si accenderà e quindi ci avviserà sia in modo visivo che in modo agustico che c'è stato il collegamento ed è anche molto veloce perfetto quindi molto reattivo ora facciamo una cosa stacco l'alimentazione stacco anche la spina e vi faccio vedere che per esempio io su questo quadretto impostato della fase deve essere a destra su tutti i collegamenti che ho fatto la fase che ho contraddistinto su questa presa da questi puntini di colore rosso è sempre posizione da destra ma se ho il dubbio voglio verificare che effettivamente il mio lavoro si è stato fatto bene posso inserire un puntale scusatemi ok posso inserire il puntale sulla fase e verificare che toccando il puntale a destra effettivamente ci sia continuità se tocco l'altro ovviamente non mi da continuità perché non sono collegati se interrompo ovviamente si interrompe anche la continuità quindi può servire sia negli impianti che nel caso in cui abbiamo un dubbio che ci sia una dispersione per esempio sulla superficie metallica ma mi è capitato per esempio con un videogioco un flipper che ci fosse dispersione e tramite un dispositivo come questa abbiamo capito effettivamente da dove proveniva ora facciamo la prova per esempio con il no contact voltage voglio farvi vedere con questi fili che fuoriescono appositamente a ciuffo da questa parte come questa parte esterna riesce a rilevare dove sia la fase quindi mettiamo la funzione specifica sul display compare ncv quindi no contact voltage che ci permette appunto tramite questo sensore di vedere dove sia la tensione se vado sul giallo non avrò alcun segnale se vado sull'azzurro non avrò alcun segnale se vado sul nero invece mi avviserà in questo caso però sono lontani voi penserete vabbè ma così è facile allora facciamo la prova ad avvicinarli di tantissimo teniamoli in questo modo e come vedete così non abbiamo segnale così invece abbiamo il segnale in questo modo abbiamo un segnale molto basso perché siamo vicini quasi tocchiamo quasi ma in questo modo ci dà conferma quindi come vedete funziona anche quando i cavi sono molto vicini quando si tratta di corrente elettrica se non sapete quello che state facendo evitate di metterci le mani ora facciamo la stessa prova con la batteria quindi nel caso in cui vogliamo sapere se una batteria è carico scarica basterà posizionare i puntali il rosso sul positivo e nero sul negativo e sul display comparirà la tensione residua quindi in questo caso se riesco a toccare bene i contatti in questo caso abbiamo 12 volt e 25 così così e ora facciamo la prova invece con la misuratore di temperatura questa sondina allora non voglio fare delle misurazioni approfondite semplicemente voglio farvi vedere come funziona quindi inserisco i due contatti dove ci sono per ora i contatti dei puntali lo imposto su temperatura e in questo caso abbiamo 20 gradi se io tocco la sonda ovviamente la temperatura aumenta fino a raggiungere la temperatura che sta rilevando nella mia mano quindi in questo caso 23 gradi se lo metto nella parte centrale ovviamente sale e più misurare sia in gradi celsius che in gradi fahrenheit quindi la doppia lettura con la doppia unità di misurazione e questa sondina avendo questa sferetta così piccola nella parte finale ci permette di misurare con precisione la temperatura di alcuni componenti anche di piccole dimensioni cosa che anche con una termocamera non riusciremo a rilevare tantomeno con una pistolina ad infrarossi ma vi ho detto che lo trovate su amazon e che ha più di 300 recensioni positive quindi 302 recensioni positive il costo attualmente già scontato del 20 per cento e 31 euro e 99 e cliccando su questa casella sia da computer che da telefonino potrete ottenere il 15 per cento di sconto in più abbiamo alcune immagini che ci fanno capire i vari funzionamenti in questo caso come vedete avvicinando la funzione no contact voltage ad una presa elettrica anche l'auto spegnimento quindi se voi non lo utilizzate per un quarto d'ora 15 minuti il dispositivo si spegnerà automaticamente invece la retroilluminazione si spegne in automatico dopo circa un paio di minuti non ho cronometrato comunque si spegne da sola per evitare di consumare inutilmente le batterie in questa immagine vediamo la funzione con l'illuminazione come avete visto è davvero molto potente e qua abbiamo qualche altro esempio quindi la misurazione della temperatura come vedete anche di un liquido poi la misurazione della tensione la misurazione della corrente dio di resistenza e continuità eccetera all'interno della confezione come vi dicevo troverete sia il multimetro ovviamente la termocoppia quindi questa sonnina che abbiamo appena utilizzato il manuale di istruzioni avete visto si è spenta la retroilluminazione il manuale di istruzione scritto in più lingue tra cui l'italiano i due cavetti quindi i puntali i due fusibile che vi ho fatto vedere poco fa e le batterie e qua abbiamo anche un'immagine del contenuto quindi un prodotto valido che effettivamente non costa nemmeno tantissimo per le tutte le funzioni che ha e per la fissibilità che ha dimostrato di avere e tra le altre cose ci tengo a ricordarvi che nessuno mi ha pagato per parlarvi bene di questo prodotto semplicemente mi è stato inviato mi è stato proposto di testarlo e di farne un video mi sono assicurato appunto che funzionasse bene e ho deciso di farvelo conoscere vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione cliccate perché potrebbe esserci anche un codice di sconto ma già comunque su amazon c'è un 20 per cento più il 15 per cento da applicare a parte non mi rimane che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo sperando che vi sia piaciuto che sia stato utile vi abbia anche semplicemente tenuto compagnia vi invito ad iscrivervi al mio canale cliccate qua giù sulla campanella dopo esservi iscritti in modo da attivare anche le notifiche cliccate sul tastino col pollicione link su tante volte cliccate su mi piace e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto